Siamo con Mr. Denardi, neocampione d'Italia con la Liventina, partita soffertissima e finita solo ai rigori. Sì, è un po' ormai il leitmotiv del nostro ultimo periodo, negli ultimi nostri due mesi sono state solo partite sofferte e le abbiamo anche tutte portate a casa alla fine. Secondo me oggi l'abbiamo giocata un po' meglio di loro e ai punti l'abbiamo vinta un po' noi, anche se loro hanno avuto una grandissima occasione colpendo un palo, che è stata l'occasione forse più clamorosa dell'intera partita. Qualche occasione importante l'abbiamo avuto anche noi, un gol annullato sul filo del fuorigioco che probabilmente c'era perché io dalla mia posizione non lo vedevo, però se il mio giocatore era un po' più attento poteva stare indietro, era un gol facile e qualche occasione un po' sprecata, però ho visto una mia squadra pronta, forse secondo me anche un po' agevolata dal fatto che noi abbiamo giocato due partite molto tirate e loro delle partite un po' facili e questo secondo me è stato un vantaggio per noi, essere pronti su partite di questo livello. Voi avete avuto un girone di ferro rispetto a loro, la testa è rimasta concentrata, però ha visto anche una preparazione fisica all'altezza, ci sono stati sprazzi di partite in cui eravate più lucidi. Sì, non so se sia, Guardiola dice che l'aspetto fisico non è importante, non conta, è solo l'aspetto mentale. Noi oggi abbiamo giocato meglio di come abbiamo giocato quest'anno di solito, la palla girava con più facilità, è una cosa che ho lavorato tanto ma che abbiamo fatto fatica a raggiungere. Oggi ho visto girare la palla con più facilità del solito e quindi sono anche soddisfatto dal gioco e dal tipo di approccio che hanno avuto i miei ragazzi. Ecco, il primo anno che sei con questo gruppo, quarto anno alla Liventina, l'anno prossimo cosa farai? L'anno prossimo farò il 2002, giocherò con la squadra che aveva lo scudetto sulle maglie, farò il 2002, sarà ancora una squadra completamente nuova perché molti giocatori andranno a giocare nei professionisti come è stato con questo gruppo 2001 che era un gruppo completamente rinnovato, sono arrivati 9 giocatori nuovi, erano andati via 6 giocatori nei professionisti quindi non è stato facile, non ci si aspettava di arrivare fino a questo punto.